Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli struffoli al cacao con glassa al cioccolato fondente. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono per l'impasto farina di tipo 00, cacao amaro, liquore all'arancia, zucchero, olio di semi di girasole, burro, uovo, tuorlo, sale. Per la salsa al cioccolato, cioccolato fondente, panna fresca, gocce di cioccolato bianco e coriandoli di zucchero per decorare. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro, l'uovo e il tuorlo, il liquore all'arancia e l'olio di semi. E ad azionare il bimbi per 1 minuto e 30 secondi a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la farina, il cacao e il sale. E ad azionare il bimbi in modalità spiega per 3 minuti. Formare un panetto e lasciare riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo, tagliare dei pezzetti di pasta e formare dei cilindri spessi quanto un dito. Tagliare dei tocchetti da circa 2 centimetri e formare delle palline. Friggere le palline in una padella con abbondante olio bollente per circa 4 minuti. Nel frattempo prepariamo la grassa. Mettere nel boccale il cioccolato e tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 6 minuti, 60 gradi, velocità 3. La glassa è pronta, mettere da parte. Glassare gli struffoli e posizionarli su un piatto da portata. Decorare con gocce di cioccolato bianco e coriandoli di zucchero. Struffoli al cacao con glassa al cioccolato fondente. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione!